Bernardo Lodispoto si riconferma presidente della provincia BAT. Nelle elezioni di domenica che si sono svolte presso gli uffici provinciali dell'ex Università LUM di Trani e riservate ai sindaci e ai consiglieri comunali della sesta provincia pugliese, il sindaco di Margherita di Savoia ha superato il suo sfidante e il primo cittadino di Spinazzola, Michele Patruno, a votare. Sono stati in 199 su 209 aventi diritto. Lodispoto si è imposto con 48.653 voti ponderati contro i 47.838 voti ponderati di Patruno. A vincere è stato il blocco del centro-sinistra, seppur con un margine meno ampio rispetto alle previsioni della vigilia. Le congratulazioni del Partito Democratico a partire dal capogruppo DEM in Regione, Filippo Caracciolo. Buon lavoro al presidente Lodispoto, espressione della vittoria del buon governo nella BAT. A sottolineare il risultato anche i segretari di Regione e Provincia, Domenico De Santis e Lorenzo Marchiorossi. La vittoria di Lodispoto sconfessa la presunzione e gli attacchi gratuiti del centrodestra, certificando il buon lavoro svolto in questi anni. Il risanamento e la crescita dell'ente in questi anni sono sotto gli occhi di tutti. Per il sindaco di Margherita di Savoia è il secondo mandato consecutivo alla guida della provincia BAT dopo la prima elezione del 27 settembre 2019.